La MDB è stata fondata nel 1977, quest'anno ricorre il 40esimo anniversario e abbiamo realizzato questa serie di macchine radiocomandate specifiche per la manutenzione del verde. In particolare oggi parliamo dell'LV600 che è una macchina dal baricentro molto basso dotata di un motore common rail turbo intercooler con un'elettronica molto spinta. Nello stesso tempo è di facile manutenzione e di un utilizzo quasi a prova di bambino, soprattutto molto divertente. È una macchina studiata soprattutto per la sicurezza dell'operatore con pendenze fino a 60 gradi, quindi con dei pendii da capogiro dotata di cingoli in gomma. Non a caso questa macchina si chiama Green Climber perché ha una capacità di arrampicarsi su pendii molto impressionanti, dotata anche di un sistema di allargamento dei cingoli idraulico. Questa operazione si fa tutta quanta da radiocomando. Abbiamo sviluppato questi cingoli, quindi una nuova geometria molto innovativa, mai vista finora sul mercato, proprio per andare sui pendii più estremi. Questo gli permette di avere un baricentro molto più basso, nello stesso tempo di riuscire a passare stringendo i cingoli in dei corridoi stretti, quali per esempio situazioni molto vicino alle ferrovie, sulle autostrade, in situazioni molto difficili. L'operatore non trovandosi sulla macchina lavora in totale sicurezza, ma soprattutto questa macchina è dotata di sensoristica che in caso di anomalia si ferma da sola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La macchina è dotata di una ventola irreversibile, pertanto l'operatore non si deve preoccupare in nessun modo alle funzioni della macchina, è dotata di una CPU e quindi è totalmente autonoma. La macchina è stata progettata per lavorare in tutti i paesi del mondo, in quanto nel display sono presenti numerose lingue e le relative unità di misura in trascodifica. Inoltre la macchina è dotata di una presa USB per l'aggiornamento del software. Nel display vengono visualizzate informazioni quali il consumo in litri ora, la temperatura dell'aria, del liquido di raffreddamento, il carico di lavoro del motore molto importante, gli intervalli di manutenzione e tutti gli allarmi del motore. La macchina è dotata di gancio di traino, ma soprattutto di un traio perimetrale che protegge il relatore in caso di urto. La macchina è dotata di una piastra multiconnessione idraulica per cambiare l'accessorio in pochissimo tempo. Questa macchina è dotata di un motore all'avanguardia di ultima generazione, con una coppia elevatissima rispetto alle ultime normative sulle emissioni europee, americane, addirittura quelle californiane, che sono le più severi in assoluto. La macchina è stata costruita con degli acciai speciali, pertanto il suo peso contenuto le dà la possibilità di essere trasportata mediante un furgone o un carrello appendice con la patente B. Sicurezza, produttività, ma soprattutto preparatevi a divertirvi. Sicurezza, produttività, ma soprattutto preparatevi a divertirvi.